C'è una vecchia teoria in teatro che dice che chi ha talento può fare quello che vuole e chi ha genio fa quello che può. Credo che in questo argomento ci entri perfettamente l'ospite e sono veramente onorato e lo ringrazio per aver accettato questo nostro invito. Alessandro, benvenuti a Genio, lo dicono tutti e è anche vero che esprime il genio nella scrittura, nella televisione, nel cinema, anche perché quando si ha genio le fonti per manifestarlo ci sono. Innanzitutto si riconosce in questa genialità. Io vorrei troppa responsabilità, il genio mi dà troppa responsabilità, vi dico la verità. Io provo a studiare, provo a migliorarmi, provo costantemente ad essere estremamente sincero nelle cose che dico, non ho grandi paure, nel senso che arrivato a quest'età mi pare di essere abbastanza protetto da tutto il mio passato, che mi fa sentire una persona non solo realizzata ma anche realizzata nella maniera più corretta per me. Quindi ecco io mi limiterei a questo. Il genio aspetterei ancora un attimo, forse c'è qualche cosina da studiare in più ancora per meritare quei gradi. Già quando mi chiamano maestro dico vabbè maestro di che che sto ancora imparando? Oppure quando mi chiamano dottore e posteggiatori dico veterinario, prego, ma lì è più facile cavarsi. Però è vero che se il genio è mettere qualcosa di diverso in ogni cosa che si fa, diciamo, la sua è una carriera in cui dall'inizio. Se pensiamo, stavamo vedendo adesso le immagini nello schermo di Ovest di Paperino che credo lei non sopporti più come film, però anche lì c'era un qualcosa che spiazzava e che anticipava molto di quello che poi si è visto in genere. Sono esperimenti che funzionavano. Io ho sempre detto di essere più che altro una specie di ricercatore di linguaggi comici piuttosto che un comico e basta. Anche perché la natura non mi ha dato i connotati del comico. Sono una persona normale, un po' alta, però insomma oggi sono alti quasi tutti, per cui oggi mi sono molto normalizzato grazie all'arrivo delle nuove generazioni. Però ecco l'idea di studiare formule comiche mi è sempre piaciuta perché non lo so, io fin da bambino ho visto molti film di comici americani e non solo e devo dire poi mia madre nel DNA mi ha regalato come dire una visione comica dei fatti della vita, del dramma incredibile che è la vita. E quindi ho sempre avuto questo modo di esprimermi attraverso l'ironia, attraverso la comicità e appunto non avendo le fisiche duro, cioè proprio il naso grosso oppure le orecchie in un certo modo, gli occhi in un certo modo che ti fanno ridere subito e diventano quasi doni di natura per uno che fa questo mestiere, ma essendo una persona normale in qualche modo ecco tutta la mia attenzione l'ho piegata verso lo studio dei linguaggi comici. Per cui è abbastanza naturale per me ricercare e ricercando quindi trovare sempre delle cose diverse l'una dall'altro anche perché mi annoierei un po' a fare sempre le stesse cose, ad avere sempre lo stesso linguaggio. Invece nel nostro mestiere è molto bello sorprendere. Io ho sempre detto, ma tu che teatro fai? Ma dico, io tento di fare il teatro della sorpresa. E cos'è il teatro della sorpresa? È che tu vieni al teatro e io ti faccio, spero, una bella sorpresa. Cioè non abituare la gente a un solo linguaggio perché poi la gente si stufa anche di sentirti sempre dire la stessa cosa nello stesso modo. Quindi è più anche un desiderio di salvarsi il più possibile che non quello di abituarsi o di far abituare la gente che poi dopo si annoia, si stufa di un te sempre uguale. Io ricordo un'esperienza in teatro, dovrebbe essere, io dirigevo la RAI a Bologna nel 2000 quindi deve essere quel periodo là, all'Arena del Sole uno spettacolo straordinario di teatro. Il teatro pieno, non mi ricordo assolutamente che spettacolo fosse, ma esattamente c'era anche Vito. No, no, era il teatro Duse, non l'Arena del Sole. Ah, vai sì, Duse. Ed era TTTT Becchettio, era. Quello era un esperimento veramente molto ardito di teatro comico. tant'è che è lo spettacolo che in assoluto piace più a mia moglie come scrittura, che è una che non è facile da accontentare. E quindi, sì, no, quello per esempio fu un esperimento però che a me mi costò carissimo. Da che punto di vista? Perché, allora, io dopo quell'esperimento di teatro comico, che io ritengo sinceramente uno dei più bei testi che io abbia mai scritto, ma davvero lo pensa, e non perché lo pensa mia moglie che amo e che sopra, no, però era talmente strano che io praticamente per cinque anni non feci più spettacoli in Toscana. Cioè, i teatri toscani per cinque anni mi chiusero le porte perché molti pensarono che io mi fossi improvvisamente o perso, o impazzito, o non so che cosa, sinceramente non l'ho mai chiesto. Però di fatto ci sono città, viene uscito una, Lucca, Teatro Giglio, dove io, da quel lontano 2000, come lei dice, io non ho più, non sono più andato. Sto parlando di un teatro nel quale ho sempre fatto dei grandi esauriti, che non è una roba, lo dico semplicemente, no, non per mettermi una medaglina al petto, ma non me ne importa nulla. Però è la verità. Quindi io praticamente sono uscito da quel teatro e da allora io non sono più tornato a Lucca. Quindi è stato uno spettacolo del quale io sono orgogliosissimo, ma che ho pagato a carissimo prezzo. Quell'esperimento io l'ho pagato a carissimo prezzo, pensi un po'. Io sono ricominciato a tornare nei teatri fiorentini quasi come una sorta di, come dire, di regalo, dice in fondo tu prima di quello eri stato carino, buono, avevi fatto delle cose, tipo benvenuti in casa Gori, la trilogia dei Gori, e per cui sì, dai, ti restituiamo un po' di credito. Ma io mi sono dovuto riguadagnare il credito, la credibilità, a causa di quello spettacolo che, le ripeto, per me forse è il più bel testo comico che io, surreale da morire, ma è il più bel testo comico che io abbia mai scritto in vita mia. Quindi, come vede, gli esperimenti poi si pagano, ecco. Ma forse per quello, perché se non hai coraggio, poi alla fine giochi sul sicuro, è quello che diceva lei, se non stupisci evidentemente. E in fondo, diciamo, la televisione purtroppo, per fortuna, è il grande traino. Si ritorna alla televisione e si ritorna a quello che faceva inferocire grandi attori come Tino Boazzelli. La televisione ti dà popolarità. Adesso la popolarità è ritornata con il ciclo del Barlume, che è un po' il contraltare del commissario Montalbano, con una differenza, che c'è la toscana e l'anima toscana, la... come si può definirla? Quella che fa definire Matteo Renzi un bimbaccio, insomma, la cattiveria toscana, che racconta, per di più perfida, perché è legata alla terza età e quindi c'è una terza età tipicamente toscana. Ecco, ritorno a questa esperienza. Allora, ecco, due parole su questa vicenda. Beh, l'Elba innanzitutto poi, oltretutto anche una bella realtà. Guardi, Marciana Marina e quindi l'Isola d'Elba, che io peraltro non conoscevo, perché, insomma, io abito a Roma da 33 anni, per cui, ecco, conosco più Ponza, perché il mio soccero ha una casa, no? Perché poi io la frequento tanto spesso, no? Perché, però, conosco più il litorale laziale, per così dire. E quindi è stata una grandissima scoperta per me. Marciana Marina, poi, è una cittadina, un paese delizioso, rimasto in un equilibrio tra ambientalistico, diciamo così, apprezzabile, perché tra mare, paese e monti, perché dietro c'è i monti, c'è un perfetto equilibrio da quel punto di vista, per cui è un luogo veramente ameno. Io mi sento a casa mia a Marciana Marina, come in tutta l'Elba, in particolare, ovviamente, a Marciana Marina, perché poi lì facciamo il campo base a Marciana Marina. Devo ringraziare molto Rohan Johnson, il regista della serie, il quale mi ha voluto in questa avventura, che per me è stata un'avventura, sotto certi aspetti, salvifica. Perché è vero che io mi sono ritirato volontariamente dal cinema, perché non avevo più nulla da dire, non avevo più storie da raccontare, e non è un caso che T.T. Beckettio sia stato uno spettacolo così bello per me, perché raccontava praticamente il suicidio di un autore. Quindi era una metafora su questa mia scelta di venirmene via, anche con un certo disgusto dal mondo del cinema, nel quale improvvisamente io mi sentivo inadatto, inadeguato. E quindi tutto quel dolore di questo finale di avventura cinematografica, il cinema è il gioco più bello del mondo per me, diciamo che l'ho ritradotto nella scrittura dolorosissima, ma molto divertente, di questo T.T.T. Beckettio. Quindi ecco, diciamo che ritiratomi dal cinema, e non più presente in televisione, ma molto spesso per dei rifiuti miei di partecipare a talk show, trasmissioni del tipo, non ho proprio voglia di fare ste robe, l'ho fatta e ne ho avuto l'overdose, la nausea, per cui basta, insomma, non voglio essere punito più di tanto. Quindi ecco, diciamo che anche in teatro, nonostante fossi apprezzato come attore, regista e autore, però insomma, ha ragione lei, la televisione è un grande specchio nel quale l'Italia si specchia. Quindi l'idea di essere tornato in una serie vincente come Delitti del Barlume ha fatto sì che anche il mio pubblico, il pubblico che viene a vedermi in teatro, perché il mio non è davvero, diciamo che è tornato con un po' di curiosità in più, quindi i numeri si sono sicuramente rialzati e questo mi fa solo che è bene. Poi ovviamente io ho fatto delle scelte, sto facendo delle scelte molto oculate e come le dicevo prima, estremamente diversificate l'una dall'altra, per cui finché riesca a sorprendere, diciamo, sono sicuro di avere un futuro. Il nostro futuro dipende dal piacimento del pubblico, dal piacere del pubblico, però sempre cercando di correre quei piccoli rischi che non mi neghino la Toscana o il resto dell'Italia per cinque anni, perché non è possibile, però diciamo sempre rischiando qualcosa. Io per esempio ricordo che San Marino, col suo teatro per dire, io ho portato qualche anno fa il mio ultimo esperimento drammaturgico che era questo thriller comico, Chi è di scena, per esempio San Marino rimase piuttosto freddo a questa proposta teatrale, il che è totalmente legittimo. Diciamo che San Marino mi è rimasto nel cuore anche perché diciamo in tre teatri, in tre, per ora tre soli, che quindi non è un'ottima percentuale. Lo spettacolo non ha avuto quel risultato, non è stata quella sorpresa che invece per il 97% dei casi lo è stato. Quindi a dimostrazione, non che quelli di San Marino siano peggiori o che non mi vogliano bene, è che... Più conservatori forse, più tradizionalisti. Non lo so, sinceramente, io San Marino l'ho praticato più di una volta e devo dire che mi fa molto piacere venire a San Marino e ho sempre trovato gradevole il tutto per dire no, però ci sta che una cosa piaccia meno di un'altra. Ma era solo per dire che comunque, come vede, il rischio c'è sempre. Però la cosa importante è dire io ci ho provato. Cioè io ho provato a regalarvi, a darvi qualcosa che non è così semplice da vedere in teatro. perché una commedia brillante la si vede sempre. Voglio dire, più o meno le commedie brillanti sono l'80% dei cartelloni dei teatri privati, in qualche modo, o di quei teatri che non essendo nazionali e quindi non potendosi permettere delle megaproduzioni, prendono dal mercato i prodotti che ci sono. Che in genere, io sono direttore artistico dei teatri di Siena e del teatro di Torbella Monaca di Roma, so benissimo qual è la quantità di spettacoli commerciali che gira, che è enorme, rispetto all'esigua, quantità di spettacoli veramente diversi, veramente altri dal commerciale e che arricchiscono la testa di chi li vede, ma anche la penna di chi li va a vedere fa lo stesso mestiere tuo. Quindi, ecco, sempre deve essere presente questa cosa qua. quello di tentare di fare qualcosa che sia nuova, ma non fosse altro per il rispetto verso quei santi che pagando un biglietto da sempre mi permettono di vivere. Restiamo un momento, se me lo consente, sul cinema. C'è un film molto particolare, un film che ha, come si può dire, ha costretto il suo regista a gestire una serie di attori molto importanti. sto parlando di compagni di scuola di Verdona e lì, insomma, non eravate pochi perché eravate tanti e tutti di un certo livello. La parte più difficile forse era proprio quella del magistrato che da buon toscano alla fine si rivela essere uno dei colpi di scena. Ecco, che immagine si è affezionato a quel ruolo, che immagine ha di quel film? Bella, bella perché intanto perché io sono convinto e lo dico che quello sia probabilmente il film più bello che ha fatto Carlo Verdone. Secondo me Carlo con quel film lì ha come raggiunto l'apice della sua creatività ed è il film tra l'altro più rischioso che lui ha fatto. È il film a mio parere, a mio parere ovviamente, che è più allineabile con la grande tradizione della commedia all'italiana, quella grande, quella dell'Iscola, dei Germi, dei Monicelli, dico sta gente qua. Carlo ha avuto una grande intuizione aiutato dai quei grandi sceneggiatori che erano benvenuti e dei Bernardi e da quel grande produttore e distributore di cinema che era Mario Cecchigori, Cecchigori vero insomma. Lui ha fatto un capolavoro lui ha fatto un capolavoro non mi faccia ridere lui. No, 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 ci sta insomma. Lui ha fatto un capolavoro con quel film io sono molto contento di essere entrato in quel meraviglioso cast ma le dirò di più quel film è il film che a me agli occhi dei romani mi ha fatto diventare un figlio di Roma. Ah sì? Sì, insomma ci sono le scritte laziale santo la mazza per dire quando un romanista vuole sentire un laziale per cui insomma e poi devo dire che Carlo è stato fantastico bravissimo nell'accozzare tutta questa gente e farci vivere a tutti un'avventura non solo divertente ma dolce equilibrata dove non c'erano competitività anzi c'era l'enorme piacere di creare insieme a lui cose sempre migliori a me a Ferrini per dire credo a tutti a Tina Scenci di sicuro e se non gliela dava se la sarebbe presa comunque a Tina Scenci la libertà di creare però ecco a noi ci ha dato la possibilità di elaborare cose che non erano neanche in sceneggiatura ovviamente non è che l'abbiamo fatte belle noi è Carlo che insieme a noi e con noi ci ha permesso di esprimerci al meglio peraltro io devo devo molto se non quasi tutto a mia moglie anche di questa cosa qua perché la sera prima la notte prima di girare il primo Shack io sinceramente non sapevo neanche come avrei fatto quel personaggio ed è chiara mia moglie che mi suggerì io ho un lontano parente che aveva la manina un po' a piccione così anche ballava in questo modo e peraltro io in quell'epoca avevo realmente ero sotto cura avevo dei ferretti di ortodonzia perché dovevo riallineare un attimo la macchina per cui quando Carlo mi propose il film mi disse Carlo guarda io sto messo così in bocca mi disse perfetto quello che devi fare quindi è passata come una cosa che il perfido Lino Santo Lamazza si era preparata addirittura con questi ferretti in bocca per essere ancora più schifosamente credibile alla De Niro e per entrare nella parte peggio infatti io per molti anni ho raccontato che l'avevo fatto apposta ho fatto il bugiardo per qualche anno nelle prime interviste a tutti dicevo e mi ero preparato appunto lei ha detto De Niro e io dicevo la stessa cosa mi sto preparando come toro scatenato De Niro io ho fatto la stessa cosa per cui diciamo che è stato un film molto bello e che comunque rappresenta anche una tappa molto importante umanamente per me perché sul finire di quel film proprio nella post produzione nacque la mia prima figlia e il giorno dopo morì mia madre quindi per me rimane un film che al di là della bellezza della storia è anche diciamo ancorato a due eventi personali molto importanti quindi ecco è un film che ricordo con grande affetto e con grande piacere c'è da considerare anche una cosa che è abbastanza misteriosa i due personaggi che restano nella memoria di chi ha visto quel film che sono poi diventati virgolette leggendari sono il giudice Santo Lamazza e il povero Fabris il povero Fabris fra l'altro compare dieci minuti nel film eppure entra nell'immaginario collettivo il cinema è strano no è un archetipo ci sono diciamo così c'è un personaggio indiscutibilmente molto comico perché rispecchia proprio tutta la cattiveria intelligente degli sceneggiatori perché io credo che quel film che quel personaggio lì credo e poi potrei essere smentito dallo stesso Carlo Verdone ma credo che quel personaggio lì fosse un parto di Benvenute dei Bernardi i quali hanno lavorato con i più grandi con i più grandi registi della storia del cinema italiano e che sono due toscani veraci che erano molto più cattivi di me io lo posso garantire e anche molto più intelligenti di me e quindi preparati informati colti io li ho voluto veramente bene perché sono stati come due padri putativi per me loro due e quindi io credo che fosse farina del loro sacco probabile così come farina del loro sacco erano due personaggi che poi Carlo Verdone non mise nelle film perché Mario Cecchigori gli disse no quei due sono troppo esagerati erano il prete e la ninfomane erano due personaggi meravigliosi proprio meravigliosi ed era una storia bellissima la loro io se non avessi fatto un rino santo alla mazza mi sarebbe piaciuto fare il prete però poi Mario con la sua lungimiranza da diciamo democristiano intelligente anche prudenza diciamo da democristiano intelligente che è un complimento non è una dice no questo è troppo levatelo e probabilmente ebbe ragione Fabrice rientra diciamo così nella memoria collettiva perché è un archetipo perché è lo sfigato per eccellenza è colui che praticamente ha perso ha perso l'infanzia anticipatamente è quello che si è sciupato del tutto prima del tempo quindi è una figura tragica tragicomica ma tragica soprattutto che appartiene alla nostra cultura la cultura proprio contadina la cultura di base a quella proprio delle viscere quindi è normale che resti impresso uno resti impresso per l'arguzia per la felicità del personaggio l'altro perché rappresenta un caso umano rappresenta un qualcosa che tutti vorrebbero evitare quindi è normale che se capita un altro a te ti fa solo che piacere e lo ricordi per dire per fortuna è toccata a lui e non a me che poi in realtà stiamo parlando un aggettivo che lei ha usato e che credo sia un po' ricorrente nella sua vita è il cattivo perché partendo dai cattivi che hanno segnato comunque gli anni settanta in qualche modo nella storia di un cinema che si c'era la commedia dell'arte ad altissimi livelli ma c'era comunque qualcosa il disagio giovanile di cui si parla tanto lì esplodeva un po' anticipatamente però c'erano anche veicoli penso una trasmissione come non stop che faceva la RAI da cui compreso Verdone sono arrivati gli anni settanta non erano poi così male gli anni settanta soprattutto per chi stava a Firenze sono stati degli anni straordinari gli anni settanta sono gli anni in cui l'arte comandava sull'economia sull'economia dell'arte intendo dire cioè non c'era la casa discografica che diceva per dire faccio un esempio sulla musica all'artista fammi questo l'artista faceva delle cose da artista e il lato commerciale di questo mestiere le case discografiche le case di distribuzione si appropriavano di quelli dei talenti che stavano nascendo liberamente senza nessun condizionamento da parte del mercato gli anni settanta sono gli ultimi anni prima del lento e progressivo come dire un po' depauperamento della mente delle teste gli anni ottanta sono gli anni diciamo così un po' più del denane delle ballerine dei lustrini dei compromessi insomma della politica che chiaramente diventa diventa una politica che corrompe probabilmente corrompeva anche prima ma chi c'era prima era troppo intelligente per riuscire allo scoperto e sapeva benissimo che queste cose potevano esistere ma non dovevano essere spiegate al volgo non dovevano diventare un sistema per tutti in qualche modo probabilmente le tangenti ci sono sempre state ma non erano alla luce del sole per cui io credo che gli anni settanta per come li ho vissuti io siano stati gli ultimi veri anni di libertà espressiva prima che il mercato e quindi l'economia del mercato si impadronisse anche di tutto quello che era il discorso artistico la libertà degli artisti negli anni settanta era pressoché totale o quasi dagli anni ottanta in poi viene piegata ai desideri del mercato quindi ecco sono stati degli anni meravigliosi io sono ben felice di aver vissuto quegli anni perché perché sono stati degli anni in cui vivere era la cosa normale era la cosa di tutti i giorni se tu non vivevi nel senso di vivere con gioia con felicità con prospettive future voleva dire che eri già morto te dentro ma perché non era la società che in qualche modo ti uccideva prima del tempo poi non è che fosse una società perfetta la società non è mai perfetta su questo non ci piove però in quegli anni lì si è respirato un'aria forse utopica sicuramente anzi utopica ma comunque di grandi fatti artistici di grandi di nascite di linguaggi di nascite di movimenti insomma è stata una cosa molto bella io non la rimpiango perché comunque anche in quegli anni lì ma già cominciando dal 60 io ero piuttosto critico con tutte quelle che erano le mode del momento per dire quindi pur vivendo le utopie i sogni dell'epoca ero sempre molto restio a cascarci proprio totalmente dentro a queste cose forse perché sono un comico dentro e quindi vedo sempre vedo sempre la morte delle cose che cominciano un po' prima del tempo o mi piace immaginarla a me proprio per questo mestiere di autore che io faccio quindi prevedere il futuro mi piace assai avere le antennine belle alte però ecco le dico gli anni 70 meraviglia assoluta io li ricordo con un piacere immenso quello che io sono oggi e anche perché sono stato in quel modo negli anni 70 mi consenta un parallelismo un po' forzato chi andava a vedere ad ovest di paperino rideva su una storia che però era anche una denuncia di qualcosa di cui non si parlava nei telegiornali chi va a vedere Cuovado di Checco Zalone 30 anni dopo se non 40 ride ma quelle cose le sa già le conosce già ci si è quasi abituato forse la differenza è proprio lì beh è una tesi piuttosto corretta non so che altro risponderle perché sì penso che sia giusto quello che lei dice diciamo che oggi si tende più a partecipare a un esorcismo forse ecco esatto il sacerdote Checco che è anche un sacerdote che la religione la conosce bene in questo senso visti i risultati che ha voglio dire e quindi sì è probabile che sia così io sinceramente non ci avevo pensato non ci fa pensare lei adesso però sicuramente credo che una differenza possa essere questa in qualche modo mi pare corretta come cosa se possiamo ancora abusare di qualche minuto di qualche suo minuto c'è una domanda che è un po' scomoda anzi ne ho due la prima me la levo subito perché lei è l'unica persona che mi può rispondere da decenni io mi chiedo come mai Pelago si chiama Pelago se sta a mille metri d'altezza evidentemente c'era il mare perché è una cosa lei però c'è solo nato o c'ha anche vissuto no no io sono nato a San Francesco che è una frazione del comune di Pelago anzi San Francesco è più grande del comune di Pelago credo o lo è fino a qualche tempo no lo è del comune di Pelago io tuttora risiedo a Pelago risiedo nel mio comune nativo senza il mare senza il mare c'è la sieve c'è il fiume però se pensa che le conchiglie le trovano anche su monti ah quello è vero di Pelago no per dire penso dipenda da questo io sinceramente non me lo sono mai posto questo problema perché ci abitavo per cui andava bene così io tante volte non mi chiedo il perché delle cose cioè in certi momenti della vita mi piace mi piace domandarmi dei perché ma in genere me la vivo un po' distrattamente la vita cogliendo qua e là i pensieri che ogni tanto mi vengono o che vengono stimolati da cose che vedo o che sento eccetera eccetera e la seconda domanda qual era? la domanda è molto delicata però non so come formularla però abbiamo visto nelle immagini i Gian Cattivi ma è possibile io adesso non lo so me lo sono sempre chiesto penso Jerry Lewis di Martin penso in Italia Cocchi e Renato eccetera eccetera possibile che i gruppi che fanno ridere si spaccano perché è l'elemento che apparentemente è sempre più debole perché chiaramente fra lei Atina Cenci e Francesco Nuti i due che tenevano la scena che che se ne dica eravate voi due Francesco Nuti seguiva ma era un po' più il personaggio che faceva ridere poi puntualmente ci si impadronisce è come se non dico l'anello più debole ma il personaggio meno in profondità ovviamente Nuti non è che fosse superficiale di suo però il suo personaggio era quello veniva poi recepito altrove e commercializzato mentre magari le capacità di un Atina Cenci o una capacità di non è stato benvenuti che erano potenzialmente molto più forti ovviamente a mio parere venivano diciamo gestite con più attenzione ma anche questo è abbastanza normale voglio dire Francesco era un terminale comico perfetto nella logica di un gruppo e noi eravamo un gruppo abbastanza illogico da quel punto di vista perché eravamo un po' illogici perché in genere lei mi parla di Cocchi e Renato uno è il clown bianco il direttore è vero e l'altro è il clown augusto quello con la pallina sul naso e le scarpe abnormi Renato e quindi c'è sempre questo gioco spalla comico in qualche modo ed è evidente che poi alla fine il comico fa cinema senza la spalla il comico viene preso dall'industria dello spettacolo perché è il comico l'altro è la spalla per cui si può essere anche un bravo attore ma è la spalla quello che tira veramente secondo il mercato è il comico poi è vero che non è esattamente così che c'è un'alchimia per cui la spalla è importante quanto è il comico se noi pensiamo a Zuzzurro e Gaspare non credo che Zuzzurro potesse essere Zuzzurro se non ci fosse stato Gaspare per dire e quindi erano una coppia perfetta biologicamente perfetta i Giancattivi rispetto a tutti loro rispetto anche per così dire alla smorfia che era l'altro grande gruppo insieme ai gatti di Vicolo Miracoli che negli anni 70 dominavano in qualche modo la scena commerciale del cabaret italiano erano strani perché erano strani perché tutti e tre volendo eravamo augusti cioè tutte e tre eravamo capaci di ridere Tina l'ha dimostrato appena ha fatto la famiglia appena ha fatto speriamo che sia femmina anzi prima ancora che ha cominciato subito a vincere premi come se piovessero in qualche modo quindi noi eravamo tutte e tre augusti cioè tutte e tre comici soltanto che a Tina ed io eravamo anche clown bianchi cioè direttori cioè potevamo tranquillamente sembrare spalle agire come spalle ma in realtà eravamo qualcosa di più rispetto a Francesco non perché avessimo più talento o altro perché avevamo la possibilità di essere entrambi le cose mentre Francesco non poteva essere una spalla non poteva fare non poteva essere né una spalla né il comico bianco il clown bianco il direttore colui che vessa in qualche modo il poveretto con il nasino a pallottola rossa quindi è normale che Francesco riconosciuto perché giustamente lo era riconosciuto come il comico per eccellenza fosse blandito dal mercato prima di noi in qualche modo e che avesse una carriera più facile più facilitata da quel punto di vista bisogna poi anche dire che Francesco è stata una persona estremamente determinata nel fare successo anzi devo dire che la voglia feroce di Francesco Nuti di fare successo è uno degli elementi per cui i gian cattivi in televisione hanno fatto il successo che hanno fatto Francesco è arrivato in televisione senza fare quasi nessuna gavetta Francesco è arrivato in televisione perché i gian cattivi avevano un contratto televisivo Francesco ha avuto la fortuna che il terzo gian cattivo che era con noi in quell'epoca che era Tonino Catalano un bravissimo mimo del mago povero di Asti non volesse fare televisione e quindi si è liberato un posto quindi Francesco in realtà è entrato in corsa con il gruppo dei gian cattivi dopo che i gian cattivi erano già stati scritturati dal non stop e devo dire meno male che è entrato perché comunque il suo desiderio la sua gioia di entrare improvvisamente nel gota diciamo così della comicità italiana è stato un deterrente pazzesco perché noi ottenessimo successo noi non è che eravamo snob attenzione eravamo molto più equilibrati di lui noi andavamo in televisione ma ci hanno messo un mese a convincere me a Tina a partecipare al non stop perché io neanche ce l'avevo il televisore all'epoca non lo sapevo neanche che esistesse non stop per cui ci hanno messo un mese noi siamo stati tre volte a Roma da Bruno Boglino da Guglielmo ma dovete farlo ma la smorfia ma chi è di Olazbo ma chi li conosce per dire no non avevamo televisione noi in casa quindi per dire e questa è una cosa importante per dire quanto Francesco in realtà sia stato un bene per il gruppo dei Giancattivi e poi lui si è buttato in questa sua giustamente aveva questo desiderio di fare da solo anche perché se glielo posso dire francamente e voi lì a San Marino avete una testimone di questa cosa che si chiama la signora Sonia Grassi che è una mia cara amica a Tine e Dio eravamo veramente dei gran rompiballe nel senso che non perdonavamo nulla eravamo molto disciplinati lì allo studio non inclini a buttarci nel facile successo nel ritenerci arrivati eravamo se lo posso dire ma me lo faccia dire perché sono toscano i rompicoglioni per cui con noi un Giancattivo terzo potrebbe resistere al massimo due anni e mezzo noi ne abbiamo cambiati cinque alla fine mentre Tina Cence e io da autentici torturatori siamo rimasti insieme fino alla fine fino all'ultima formazione che prevedeva quel bravissimo attore che era Daniele Trambusti che è succeduto a Francesco Nuti ma chi ci poteva sopportare più di due anni e mezzo sinceramente quindi va a dire bene e mi fa piacere che Francesco abbia avuto la sua carriera grazie anche a noi e noi abbiamo avuto il nostro successo grazie anche a lui quindi uno a uno e poi veramente l'enorme dispiacere di come per quanto mi riguarda le loro due carriere chi più o meno drammaticamente certamente Francesco più di Atina si sono anticipatamente chiuse in un pozzo di dolore insomma però un ricordo diciamo di quel mondo rimangono i film rimangono gli spettacoli una domanda era difficile dirigere Atina Cenci da regista sì perché non studiava nel senso Atina che sarebbe diventata stava diventando una delle signore del teatro italiano che ha vinto più premi lei di Atina abbia vinti io in tutta la mia carriera per dire era difficile da dirigere ma semplicemente perché questo suo talento naturale la portava diciamo così un po' a sottovalutare nel cinema sto dicendo che in teatro non era così nel cabaret ancora meno la portava un po' a sottovalutare l'impegno per così dire per cui quando arrivava era sempre preparata all'ultimo momento diciamo poi indubbiamente i risultati si vedevano per cui diciamo che su Atina un po' bisognava fidarsi e un po' bisognava anche accettare il suo punto di vista perché comunque le ricordo che Atina è sempre stata considerata l'uomo del gruppo c'era qualcuno che doveva andare a riscuotere in situazioni anche oggettivamente difficili non era Francesca che era un pusillanime o io che preferivo rimanere con snobistico di stacco a vedere i tecnici che smontavano per creare un'atmosfera democratica all'inseno del gruppo in seno al gruppo Atina era quella che andava a sbucciare le situazioni difficili io adesso che ci vorrebbe una trasmissione a sé per spiegarle la forza distruttrice di questa donna che tra l'altro era una funzionaria dell'Arci era una impegnata politicamente molto più di me io ero della sinistra disinvolta per cui insomma non ero così come dire formattato come lei ma insomma per dire vabbè mi sto dilungando in cose molto direttive ma credo che sia a parte che sono molto interessanti per chi ama sia il grande teatro il grande cinema ma anche un'attrice come Atina Cenci io adesso mi rendo conto che le sto facendo la ventiduesima ultima domanda perché però questa è veramente poi giuro che la lasciamo libera ma io come faccio da romano a pensare che ci sia un teatro a Torbellamonaca e qualcuno adesso per chi non è di Roma Torbellamonaca non è esattamente i parioli ma chi è che va a teatro a Torbellamonaca tutti si per pensare che Torbellamonaca è un autentico miracolo culturale per il questore di Roma noi siamo un avamposto culturale per Franceschini quando era lo è tuttora ma quando nella passata legislatura che era ministro della cultura a noi ci definì un esempio di sposalizio tra il pubblico e il privato perfetto da esportare nel resto d'Italia il che vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro molto di questo risultato di questa come dire positività di risultato va data a Filippo D'Alessio che è il mio direttore organizzativo che io sono il direttore artistico ma quello che si sobbarca poi l'onere di mandare avanti il teatro non sono io io raccolgo come dire raccolgo i complimenti ma molto del merito è suo però le scelte le fa lei non le fa lui no le facciamo assieme c'è un sistema veramente amichevole tra di noi di lavorare c'è una grande estima e un grande affetto l'uno verso l'altro affetto sancito da una chiarezza di intenti e di principi messa in pratica da subito perché non è che Filippo è un mio amico da tutta la vita lo conosco da sei anni e da cinque anni io sono direttore artistico e lui organizzativo del teatro di Torbella Monaca diciamo che ci siamo presentati con i nostri comuni difetti raccontandoceli e cercando di fare in modo che questi difetti non inficiassero l'ottimo rapporto che doveva nascere tra di noi e che sia un ottimo rapporto viene dimostrato dal fatto che il teatro di Torbella Monaca da cinque anni finisce in guadagno e non in perdita ora se lei conosce Roma e sa che Torbella Monaca lei ha detto non è esattamente Iparioli diciamo che Torbella Monaca è un po' lo scampia napoletano noi siamo siamo molto amati nel quartiere perché ci siamo presentati come persone non ci siamo presentati come alieni che arrivavano da Roma dalla Roma bene che andavano lì a seminare cultura a forza noi ci siamo presentati come persone uguali a loro abbiamo impostato tutto su un rapporto affettivo vero facendoci conoscere prima come persone poi come attori come artisti e la risposta è la risposta di gente diciamo di un quartiere che non ne può più di essere indicato come un quartiere problematica e basta di Roma è ovvio che Torbella Monaca come tutta la periferia romana è piena di problemi su questo non ci piove però è piena anche di tante volontà il pubblico di Torbella Monaca più che essere un pubblico è un pubblico militante è gente che difende il suo avamposto culturale non c'è nient'altro a Torbella Monaca a parte un paio di librerie c'è solo sto teatro per cui voglio dire io non ho mai fatto una direzione artistica così commovente come lo è questa di Torbella Monaca io da un anno ho l'onore di essere il direttore artistico dei teatri di Siena quindi due teatri meravigliosi due gioielli architettonici che sono il teatro dei rinnovati il teatro dei rozzi e ho una grande passione per questa sfida perché è una sfida enorme alla quale io sono sottoposto però devo dire là si respirano delle problematicità che hanno tutti i grandi teatri quindi non dico che siano non sono commoventi perché non sono diciamo drammatiche come lo è la situazione di Torbella Monaca in qualche modo per cui è ovvio che voglio bene sono tutte e due le realtà sia a Siena che per me è un onore essere insignito di questo ruolo sia a Torbella Monaca con la differenza che diciamo così a Siena nonostante i grandi problemi che ogni città ha soprattutto nella cultura e soprattutto poi in questo momento però diciamo che ho degli alleati più forti in qualche modo a Torbella Monaca veramente siamo un manipolo di gente di volontari che ha fatto un miracolo che era davvero non così tanto possibile se non grazie a una disciplina e a delle scelte e a un atteggiamento proprio personale di persone che ha convinto tutti che hanno due nuovi vicini di casa e no come le ho detto prima due alieni che impongono cultura dall'alto delle loro decisioni sembra se noi facciamo una roba che anche se non lo è ma appare veramente condivisa con quelli che sono i gusti e le aspettative del quartiere e poi lo ha detto lei al di là di tutto sono i fatti che contano un teatro che chiude in attivo è un teatro che chiude in attivo punto questo credo sia l'importante io giuro avevo detto che era l'ultima la ringrazio fra l'altro la ringrazio anche per un'altra cosa che di questi tempi siamo riusciti a non parlare del coronavirus credo che anche questo ci aiuti un momento ad andare avanti grazie Alessandro benvenuti alla prossima a voi grazie un saluto a tutti quanti i vostri telespettatori grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti